Gli amici dell'Heineken di Baronissi si divertono così, tra musiche caraibiche e musica anni E tutta la squadra al completo, queste donne e uomini, Heineken, facciamo gli auguri di buone feste Il microfono a voi E le scopo tutte io all'Heineken che vi fanno gli auguri in diretta a Night and Day e ai telespettatori Uno, due, tre Buone feste Night and Day, una è scappata, ma ho beccato loro due All'Heineken, facciamo gli auguri in diretta ai telespettatori Auguri di buon anno Auguri di buone feste Auguri E già, l'Heineken veramente possiamo dire che strabitosamente ha preso il via Con la sua stagione e non si ferma assolutamente Amici miei, io stasera sono un po' circondata tra imprenditori, uomini, manager Insomma, tutti coloro che insieme con un gruppo formato da quattro persone, ne manca soltanto uno Ma vi garantisco impegnato alla cassa, non poteva assolutamente lasciare Sono loro i grandi, i nostri amici che stanno preparando una ricca programmazione per questo Natale, per questo Capodanno E ci sono anche degli eventi straordinari, speciali, che prenderanno vita durante queste festività E allora diamo il benvenuto a... Gaetano Diamo il benvenuto a... Gennaro Diamo il benvenuto a... A Franco Oramai siamo proprio agli sgoccioli, qualche giorno è Natale e qui si festeggia Si festeggia in Natale, il 25, con musica sempre, musica live e poi con discoteca a seguire Dunque dopo questo cenone della vigilia e dopo la messa si verrà qui all'Heineken Assolutamente, tutti all'Heineken, il 25 a festeggiare con noi, tra balli con musica dal vivo E ci saranno qualche sorpresa come gadget, qualche piccola tombolata sicuramente Benissimo, questa cosa diventa carina, soprattutto se poi ci sono dei premi interessanti Assolutamente Ebbene invece se parliamo e superiamo il giorno 25, chiaramente Franco ci presenterà questa data E' una data internazionale, il giorno 27, cosa capita qui all'Heineken di Baronis? Presenteremo il backstage del Movida, di Simone Pisapia e sarà una grande serata, una grande bella serata Ecco noi dobbiamo sapere amici di Night and Day che Movida è un brano che sarà presentato con il suo backstage qui all'Heineken, dunque che cosa significa? Che è una realtà locale che però ha assolutamente riscosso un successo internazionale E allora non potete mancare la presentazione di questo backstage, di questo brano che poi chiaramente ballerete per tutto l'anno, si presenta qui In anteprima nazionale da l'Heineken Ma non finisce perché io ho saputo da fonti certe che al giorno 31, dunque grande veglione di fine anno, ancora un'altra serata straordinaria che durerà tutta la notte fino al mattino del primo gennaio e qui ci sono delle ballerine brasile Ma non svegliamo tutto adesso, una bella Ma come? Lo dobbiamo dire? Questo lo dobbiamo dire? Lo diciamo? Ma sì, diciamolo dai Il 31 all'Heineken ci sono le ragazze Diciamo? Lo diciamo, sì Le ragazze brasiliane Ricordando che comunque all'Heineken è possibile Insomma, si può gustare un'ottima cena Comunque, giusto? E dimenticavo che il giovedì, tutti i giovedì, c'è la serata universitaria Quindi il giovedì, il sabato, la domenica, poi ne parleremo prossimamente E' sempre un modo per divertirsi Però adesso, è sempre, sempre Però sapete che adesso spettano gli auguri da parte vostra a tutti gli amici telespettatori Chi vuole cominciare a fare gli auguri di buone feste? Franco! Un auguri a tutti gli amici di Net in Day Auguri a tutti gli amici e soprattutto a Night in Day Tanti auguri di un buon Natale e di un felice anno nuovo Tanti auguri a Night in Day, buon Natale, felice anno nuovo Grazie Insieme a noi Sempre all'Heineken che si trova naturalmente a Baronissi Vogliamo ricordare un numero telefonico? Uscita a Lancusi Infatti qualcuno si potrebbe anche, magari Baronissi, invece l'uscita è a Lancusi Benissimo, vogliamo anche ricordare il numero di telefono? 333-8381-629 Benissimo, oppure? 340-400-4694 Va bene, allora salutiamo gli amici di Night in Day A presto, venite qui a Lancusi Che bella serata!